Lo stupefacente nel ventre della Trinacria, via Siracusa e Catania, giungeva direttamente dalla Locride, seguendo tra gli altri un corriere incensurato che batteva le strade di Africo Nuovo, Bianco e Bovalino, e poi decifrando il linguaggio criptico che catalogava in cavalli piccoli o grandi o in giumenta la droga da trattare, i carabinieri sono riusciti a ricostruire il vasto traffico e a scardinare un'organizzazione criminale al cui vertice vi erano anche donne. 24 le misure cautelari emesse dal GIP di Catania su richiesta della locale distrettuale antimafia, due gli indagati che sono riusciti finora a sottrarsi alla fuga. La banda avrebbe avuto la sua base operativa a sud della provincia di Siracusa e si sarebbe occupata dell'approvvigionamento e della commercializzazione al dettaglio di eroina, hashish e marijuana, un'associazione ben organizzata che avrebbe avuto a disposizione anche armi e che sarebbe sopravvissuta nonostante l'arresto nel recente passato di alcuni sodali grazie appunto al ruolo assunto dalle donne. Proprio loro, ad un certo punto, avrebbero tenuto in mano le redini degli affari necessari per il sostentamento dei detenuti e per assicurare il necessario approvvigionamento della cassa comune.